Benvenuti ad un'altra puntata di Fuck or Fake, la serie in cui vi mostriamo alcuni video che potrebbero essere reali oppure falsi e quindi sarete a giudicare i video in questione. Detto ciò, iniziamo! Sì, non è stata! Oh, non è stata! Oh, conchetto mani! La dodo! Oh, no, che c'e bolo! Oh, no, che c'e bolo! No è stata! Oh, non è stata! Oh, non è stata! Oh, non è stata! Oh, vamo a ver! Oh, conchetto mani, si è abriu la porta! Oh, no, no, no! Oh, Yara! Oh, wevón, corre, corre! Che c'e che c'e? Che c'e che c'e? Oh! Corre, corre! Corre, wevón, corre! Oh, Yara! Oh, corre! Oh, corre! Oh, no, che c'e che c'e? Oh, ya! Oh, corre, wevón, corre! Oh! Oh, la silla! Oh, Lucho miro miedo! Oh, no prender al oso! Oh, Lucho, ve, ve, corre! Oh, la silla! No jodas! Corre, mierda! Oh, no está, wevón, Lucho! Corre, Lucho de mierda! Vamos, ya, wevón! Tienes que irse conmierda! Oh! Oh, conchetto mani! Oh, Lucho, corre, conchetto mani! ¿Dónde vamos? Oh, oh, oh! Manual R overe On harina y pipes! Catalina, Catalina! Vuelve a la vida! Lo que el diablo te da, el diablo te quita! Catalina, Catalina! Vuelve a la vida! Lo que el diablo te da, el diablo te quita! En nome del demonio, manifiestate oggi, qui e in questo giorno. En nome del demonio, manifiestate oggi, qui e in questo giorno. Il demonio, manifiestate oggi, 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 in questo giorno. Il demonio, manifiestate oggi.